e beh a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono con ingamer 582 e oggi siamo qui per una cosa pazzesca che nemmeno io riesco a crederci ho fatto più di mille iscrizioni ad altri canali mi sono iscritta più di mille canali c'è raga io e dal mi sembra 2014 2015 che ho il mio account e che ho fatto più di mille iscrizioni dovrebbero essere 1100 1200 dai e più o meno queste qua c'era è una cosa pazzesca no raga non so se ho fatto un record ma voglio che me lo dite c'è un record italiano me lo dite nella nella descrizione se è veramente un record c'è raga una cosa pazzesca cioè quindi infinitissimo raga inutile che scorriamo tanto ne ne tantissimo vabbè raga ditemi veramente nella descrizione se questo è un record perché se è un record sono felice condividete spolliciate questo video rompete quel pulsante condividetelo con tutti quanti quindi detto questo ragazzi vi saluto ci vediamo al prossimo video voglio tantissimi like iscritti visualizzazioni condividete questo video con tutti bella